Oh ciao ragazzi, bene bene bene, come promettiamo sempre, questa sera, anzi questa notte o questa mattina ci sono i bomboloni, siamo arrivati ai mitici bomboloni e quindi siamo qua, guardate qua, abbiamo i singoli in tour che sono resistiti, c'è anche Trombet, ciao Trombet, come va? Ecco qua, vedete, bomboloni a go go, e vai, ah non li avete fatti tagliare, dobbiamo trovare il coltello allora, aspetta, guarda un po', cerca qua, guarda se c'è qualche posata, ci sarà il coltello, se no li taglieremo con i denti, dai mangia l'intero dai, se lo senti qua ne mangiamo un mezzo perché abbiamo paura che durante la notte dopo succedano incidenti di percorso, Allora, tiro fuori qua i bomboloni, vai, dobbiamo filmare lo sgnam, lo sgnam dei bomboloni, ecco qua abbiamo la viviana che è la sdora della situazione, adattissima, ecco qua che taglia a metà, fai anche delle foto, benissimo, Gli ospiti devono mangiare e farlo sgnam, ecco vai, bo si dai, ma mangia so, dai guarda che è buonissimo, ecco qua, eccola qua che sgnam, fagli la foto alla singola che sgnam, vai, vogliamo vedere lo sgnam, come sgnammi? Eccolo qui, eccolo qui, che sgnam, perfetto, va bene, non lo facciamo, bomboloni a go go, vai, forza, che profumo, arrivo, arrivo, vai trombe, smagna, sgnam, ecco qua trombetta, vai, vai, eccolo qui, che classe, come mangia, come mangia, Sì, vai, eccola qua la Mariana, facci vedere, osta che brava, come sgnam la Mariana, vai, 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 tu, che onda, eccolo qui Gianni, si fa bene un bombolone a quest'ora, mettiamo su un po' di peso, esatto, ecco qua, guardate che roba, fagli delle foto a singola, Eccola che sgnam, eccola qua, bomboloni a go go, Silvio, ecco qua Silvia, Silvia, rimembri quei tempi della tua vita mortale, quando i tuoi occhi ridenti e fugitivi, come che dice, eccolo qua se sgnam, trombetta, mangia un altro, a me un mezzo se c'è, se c'è, mezzo qua, perfetto, Mettili qua, vicino alla mia maglia, calorie zero, adesso non pesiamo le calorie, dai, la metà di uno, la metà della metà, la sono troppo buoni, buoni eh, lo so, si è, E' buona anche la crema, ecco, è appena fatta, non è, mamma mia, è costosa, è delicata, ecco la Viviana, come si gnamma, All'hotel Parma con grassi siamo. Buoni eh? Buonissimi. Buonanotte. Ciao. Alla prossima. Ciao. 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 Buonanotte. Di là, di là, Giussi. Esci e poi c'è lei la chiave per entrare. Bene, c'hai problemi? Dimmi. Ce n'è ancora se qualcuno ne vuole o no? Sì. Ce n'è ancora uno, dai. Uno e un quarto ce n'è. Vai, vai. Sì, sì, sì. Noi siamo là alle quattro e mezza di pomeriggio. Ne ho troppe. Eh? No, mi devi mandare un whatsapp, ce l'è il mio numero. Dopo te lo so. Bene. Ce n'è ancora, dai, Silvia, dai. Vai, vai, vai. Magnate, magnate. 35, 33, 45, 81. Bene, ragazzi. Quindi vi abbiamo dimostrato che chi resiste fino a tarda notte, la serata, i single, si mangiano i bomboloni. Vi posso assicurare che sono assolutamente buonissimi e adesso vi salutiamo. Poi, vabbè, ce n'è ancora uno da mangiare, lo mangeremo. Vi salutiamo e ci vediamo domani a Parma. Saremo all'hotel Parma Congressi di Parma per una super serata dei single, anche questa di Halloween. E dopo domani saremo ad Ancona, Marina di Monte Marciano di Ancona. E all'indomani ancora saremo a Belluno. Ciao ragazzi. Ciao. Buonanotte. Ciao Paolo. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.